Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro ArtCave, oggi siamo qui in questo non-commentary, oggi sono qui per spiegare come potenziare ulteriormente i guanti completando tutte le sfide divine primordiali. Questa cosa è veramente veramente lunga ma ci permette di avere qualche colpo in più nei nostri guanti e i colpi basi di questi guanti saranno leggermente più forti. Darò alla fine le mie opinioni riguardo tutto questo passaggio perché è abbastanza lungo e parecchio fastidioso, però comunque ci permette di avere un potenziamento aggiuntivo. Vi dico fin da subito che tutta questa cosa che state per vedere non può essere fatta in easy o in custom mutations, dovete per forza giocare in normal. Vi dico fin da subito che questa partita è stata giocata in due con Astral, quindi questa cosa può essere fatta in co-op e forse rende la cosa leggermente più facile. In solo dovete fare tutto quanto completamente da soli, quindi tutte le sfide successive che dovremo fare, tutto il setup è abbastanza lungo, quindi potremo trovarci a un round parecchio alto. Mentre in co-op è forse un pochino più facile. Come al solito abbiamo il setup base della mappa, quindi attivate il manufatto, costruite lo scudo, attivate il pack-a-punch, tutte le solite cose. Se per caso non sapete ancora come fare tutto quanto vi lascio il link alla mia playlist su tutti i tutorial di Ancient Evil in descrizione. Sfruttate anche magari questo periodo iniziale dei primi round per già iniziare a potenziare tutti quanti, perché dovremo averli tutti quanti potenziati per fare ovviamente gli step successivi, quindi mettetegli avanti il prima possibile. Quindi dopo aver fatto tutto il setup iniziale, aver potenziato tutti quanti e aver fatto ovviamente il pack-a-punch e tutto il resto, possiamo iniziare i passaggi successivi, che saranno parecchio fastidiosi, per nulla difficili, in realtà sono soltanto abbastanza lunghi e possono appunto richiedere diversi, diversi round. Per prima cosa dobbiamo accendere la fiamma eterna e per farlo dobbiamo completare diverse sfide e ottenere ricompense leggendarie ed epiche. Per quanto riguarda in solo, vi basta riscattare una ricompensa leggendaria e una epica per attivare la fiamma eterna, mentre in coppa direi che sia il doppio, quindi una leggendaria e una epica a testa per attivarla completamente. Infatti per una volta che abbiamo riscattato le nostre ricompense, la fiamma non si è accesa, per cui abbiamo fatto altre sfide, quindi altri punti nei tributi, qualche altra sfida, nulla di difficile, ci vuole soltanto un pochino di tempo. Infatti a round 20 abbiamo finalmente acceso la fiamma eterna che diventerà di colore blu. A questo punto prendiamo il nostro scudo, accoltelliamo la fiamma eterna con il tasto del corpo a corpo e avremo la nostra lancia infocata. Lecchiamoci quindi fuori dove si trova appunto questa colonna gigante e tiriamo la lancia poco sopra questo vaso dorato. A questo punto si accenderà una fiamma e questo passaggio è stato completato. Il prossimo è uno di quelli veramente veramente noiosi, dovremmo uccidere diversi zombie catalyst sopra i cerchi degli altari delle mani. Per cui per quanto riguarda l'altare di Gaia dovremmo uccidere uno zombie catalyst infocato proprio mentre è dentro. Questo zombie è molto lento quindi è un po' facile però portarlo fino a qui è la parte più difficile. Una volta ucciso questo zombie catalyst uccidiamo 10 zombie normali sempre dentro al cerchio. Potete farlo con una massa intera di zombie come in questo caso ma anche in mezzo al round state soltanto un pochino attenti, fate avvicinare gli zombie e uccideteli. Come già detto abbiamo giocato in coppa, infatti Astral ha ucciso lo zombie catalyst elettrico qua davanti a Emera e io l'ho aiutato a fare le altre kill zombie normali. Per cui se siete in coppa potete mandervi un pochino avanti anche se sicuramente avrete la sfiga di avere i zombie catalyst sbagliati al vostro altare. Rechiamoci quindi all'altra zona e qua uccidiamo uno zombie catalyst di ghiaccio dentro la zona di Urano. Come sempre io ho portato una massa perché comunque lo zombie catalyst di ghiaccio li insegue e dopodiché ho ucciso piano piano gli altri zombie necessari. Per ultimo abbiamo l'altare di Caronte e qui serve uno zombie catalyst velenoso, quello verde. Io qua ho spardo un colpo caricato perché attira gli zombie quindi anche il catalyst è entrato dentro. Solitamente vedrete l'anima del zombie catalyst entrare dentro l'altare una volta ucciso. Qua Caronte non è capitato penso per l'effetto del guanto ma state tranquilli perché basta uccidere gli zombie dentro l'altare e sicuramente vedrete se le anime entrano dentro. A noi comunque è sempre funzionato al primo colpo per cui nessun problema. Rechiamoci ora al pacca punch e guardiamo la parte superiore. Qua ci saranno quattro simboli, se sono tutti e quattro accesi allora avete completato tutte e quattro le sfide. Possiamo passare alla parte successiva che anche questa è parecchio fastidiosa e forse un pochino più difficile neanche troppo lungo. Dovremmo completare quattro sfide per ogni dio molto più difficili di quelle per potenziare i guanti. Quindi vi consiglio di avere un guanto completamente carico, un'arma magari potenziata come il DMR che è molto forte, l'arma speciale carica e lo scudo pieno. Questo perché durante questa sfida potremo usare tutte le armi che vogliamo ma non avremo ovviamente i colpi illimitati. La prima sfida sarà quella di Gaia, ci porterà sempre appunto nel solito lockdown, ma invece di zombie normali ci saranno soltanto zombie catalyst. Il che secondo me non è nulla di troppo difficile, però la sfida è veramente lunga, dura circa tre minuti e infatti ho finito i colpi dei guanti a un certo punto. Non è appunto nulla di difficile perché i catalyst sono veramente lenti e non hanno in realtà tutta questa vita, però sono veramente tanti per cui sparate un pochino di guanto, utilizzate il DMR potenziato al massimo perché è veramente forte, potete ovviamente ricomprare i colpi perché è a muro, e inoltre utilizzate lo scudo perché è veramente veramente efficace. Vi sconsiglio di utilizzare l'arma speciale perché ci servirà magari per le sfide successive e secondo me non è così necessario, se state per morire incassati dagli zombie però utilizzatelo per salvarvi. Una volta completata la sfida verrete ovviamente riportati indietro dal portale di Gaia, avete completato la prima sfida dove passare a quelle successive. La prossima sfida è quella di Emera, anche questa forse una di quelle più facili secondo me perché sono soltanto zombie scheletrici che non sono nulla di difficile, sono forse un pochino più veloci, un pochino più forti, ma rispetto alla sfida precedente sono molti molti di meno, questa dura circa un minuto e sempre di scudo, sempre di guanto è veramente veramente facile. Girate in tondo, spammate le lance, spammate i colpi di guanto, state attenti a non farvi chiudere e non avrete nessun problema. Inoltre molto spesso l'oracolo vi aiuterà ridandovi i colpi o della lancia, quindi tutti i 15 colpi o anche alcuni colpi del guanto, per cui molto spesso lei è davvero di aiuto. Completata anche questa sfida passiamo a quella successiva. Come sempre in completata la sfida verrete riportati in una mappa nella zona del pack a punch e possiamo passare alla sfida successiva. Questi intermezzi sono molto comodi per ricomprare i colpi e andare a prendere un altro guanto o altre cose del genere. La prossima sfida è quella di Emera, forse una di quelle più difficili. Qua vi consiglio di avere una special weapon carica perché spanneranno tre boss della nuova mappa, quindi GG Nees. Spanneranno prima due e poi uno. In questo caso l'arma speciale è veramente efficace, io questa partita avevo il martello di Thor, ma secondo me la migliore rimane Vipera e Drago. Purtroppo mi sono sbagliato, come potete vedere funziona comunque martello di Thor, però avvicinandosi troppo ai boss si rischia di essere colpiti e anche uccisi, come capiterà dopo nella prossima sfida. Per cui Vipera e Drago è molto forte perché possiamo sia colterare che sparare, soprattutto se l'abbiamo a livello 3, quindi vi consiglio sicuramente quella special weapon. Anche le altre funzionano, però meglio andare sul sicuro. Ucciderete sicuramente i primi due boss con la prima special weapon, ma non basterà per il terzo. Il terzo dovete uccidere normalmente. Se avete un DMR e soprattutto lo scudo lo farete molto tranquillamente, anche perché è un boss solo, non è per nulla difficile. Abbiamo quindi completato la terza e penultima sfida. Manca l'ultima, quella di Caronte, sicuramente la più difficile in cui infatti sono morto. Qua spawneranno tre padri corrotti che io ho cercato di uccidere sempre col metodo della special weapon, ma come già detto il martello di Thor è molto rischioso perché dovremmo avvicinarci davvero tanto. Inoltre i padri corrotti sono davvero veloci e tolgono 100 con un colpo, quindi due vicini ci uccidono quasi sempre. Infatti come vedete qua io verrò ucciso e riportato indietro. Se siamo in Coop, quindi verremo portati indietro in emorragia, potremo essere rianimati. In questo caso ho avuto veramente fortuna perché Astral era già morto precedentemente, quindi sono tornato nella mappa completamente morto, ma l'oracolo mi ha nuovamente rianimato dandomi un revive. Questa cosa ci ha salvato la partita, per cui state veramente attenti se siete in Coop, quindi avete il vostro compagno vivo che può rianimarvi, o un revive del genere con l'oracolo può salvarvi tutto. La sfida era quindi fatta nuovamente, Astral che aveva un setup un pochino migliore del mio, soprattutto perché aveva l'attacco di Pegaso che io non avevo e aveva un altro guanto carico, per cui lui si è messo, ha ucciso i primi due padri corrotti, prima stordendoli con l'attacco di Pegaso, dopodiché con la Special Weapon che nuovamente è molto efficace. Tutto ciò nuovamente a dimostrazione del fatto che le sfide possono essere fatte in più giocatori. Vediamo quindi Astral tornare e abbiamo completato tutte e quattro le sfide. Vedete anche infatti l'obiettivo che abbiamo completato e tutto quanto bello finito. Per cui adesso possiamo finalmente potenziare i nostri guanti. Il potenziamento è molto molto banale, dobbiamo ficcare i nostri guanti dentro il Pack-a-Punch. Questa cosa non costa nessun punto, costa completamente zero, quindi gratuito, e ci darà la nostra arma con i colpi aumentati, quindi 50 colpi, le mani diventeranno superbe, e la differenza non è in realtà così grande, abbiamo appunto 10 colpi aggiuntivi e i colpi basi mi sembrano leggermente più forti, non tanto che sparando anche i round un pelino più alti, quindi intorno alla trentina, il colpo base continuasse a uccidere tre zombie, mentre nelle versioni normali, quindi cadute o anche potenziate normalmente, non lo facesse più. Il colpo caricato è completamente identico, l'unico vantaggio non punto nuovamente è che abbiamo dei colpi in più, ma neanche troppi alla fine. Come vedrete noi abbiamo a fine potenziato tutti i guanti, è soltanto giusto per testarli. Come opinione finale vi dico che secondo me questa cosa di potenziare i guanti è abbastanza superflua, perché è veramente veramente lunga, soprattutto magari in solo, già in co-op può essere velocizzato parecchio per il fatto di uccidere più zombie catalista alla volta, o fare una sfida a testa molto velocemente, in modo che tutti abbiano un guanto carico, l'arma carica o lo scudo, e non dobbiamo fare un setup troppo lungo. Però questa cosa è necessaria per potenziare anche soltanto un guanto, per cui dobbiamo fargli tutte quante queste sfide, anche soltanto per avere il nostro guanto che ci serve magari per un high round o per una partita interessante, e quindi è una cosa davvero davvero lunga, che richiede davvero tanto tempo. Ovviamente ci abbiamo messo più del necessario, perché secondo me si può fare anche intorno al round 20, ma noi abbiamo perso molto tempo con il setup iniziale, non abbiamo fatto subito la fiamma eterna e altre piccole cose, per cui secondo me si può fare molto prima, ma richiede comunque veramente troppo troppo tempo. Per cui ragazzi, questo era come ottenere le mani superbe completando tutte le sfide divine primordiali, secondo me è comunque abbastanza interessante da fare, anche giusto magari per l'obiettivo, il trofeo, come volete, anche giusto per testare come sono questi guanti con 50 colpi, che è sicuramente molto utile, però ripeto, ci vuole troppo tempo per fare un setup del genere, per cui già escono comunque i setup normali per fare i guanti, magari non sono troppo lunghi, però dobbiamo farne 4 in tutto, fare tutto il resto che c'è nella mappa, e fare addirittura questa cosa qui, ci ritroveremo già comunque a round 20 o 25, e dopo possiamo finalmente iniziare la nostra partita. Per cui ragazzi, il tutorial finisce qui, spero vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio, ala!